Premesso che l'Avellino deve battere la Paganese e commettere meno errori possibili da qui al termine della stagione, i lupi domani dovranno guardare anche a due match in programma su altri campi. Bari Francavilla e Monopoli Catanzaro, sfide che potrebbero permettere ai Biancoverdi di rosicchiare punti alle formazioni che li precedono in classifica. Al San Nicoli Galletti per uno dei due big match di giornata saranno il gran completo. Mister Mignani potrà contare anche sul fantasista Botta, che seppur non ha il top della condizione sarà a disposizione del tecnico ex Siena. Il calciatore sudamericano in diffida, così come Terranova, Celiente e Di Cesare. La Virtus arriva al derby in forma spensierata, consapevole di poter replicare l'impresa dell'andata, ma allo stesso tempo senza pressioni. Il difensore caporale non sarà nel match, così come Tettoua, mentre rientrerà attaccante Perez, che si accomoderà in panchina. Lo staff medico di Biancazurri sta monitorando Egnan, assente il fantasista ex Modena Tulissi. In casa Monopoli per la gara contro il Catanzaro mancherà il solo Amlilli con Mister Colombo, che si affida al collo adato 3-5-2, con Borelli e Starita di punta. Qualche problema per la squadra di Vivarini, che non potrà contare ancora sul Rolando in gruppo da lunedì, è Maldonado, vittima di problemi muscolari. Lo staff medico giallorosso monitora invece le condizioni di Capitano Martinelli e del portiere Branduani in panchina nelle ultime due sfide. La speranza è che Gautieri trovi la seconda vittoria del suo corso e che da altri campi arrivino risultati positivi.